Il terzo raggruppamento, Terrier, il giudice viene dall'Ungheria, Andras Koros. Ok. Airdel Terrier. American Staffordshire Terrier. Bull Terrier. Yacht Terrier. Beldington Terrier. Staffordshire Terrier. Parson Jack Russell. Jack Russell, Cairn Terrier. Cilliam. Westy, Scottish, Yorkshire. Pacificumbia. C'è... Confermiamo switchi. C'è... C'è... allora il terzo raggruppamento quindi avremo il terzo finalista tra i terrier allora abbiamo già una selezione il Jack Russell, lo Scottish, lo Staffordshire, il Jack Terrier e l'American Staffordshire signori possiamo accostare, signori del Jack signore ecco qua, American Staffordshire Jack Terrier Staffordshire Terrier grazie a tutti e della volta del Jack Russell e concludiamo con lo Scottish Terrier grazie a tutti Allora abbiamo visto tutti e cinque i soggetti selezionati, aspettiamo adesso. Allora ci siamo al terzo posto Staffordshire Bull Terrier, al secondo posto Scottish Terrier, vince Jack Russell. Allora abbiamo visto tutti e cinque i soggetti.